ecco alessandro che le prese coi piatti lo mettiamo lo mettiamo su youtube guarda che scazzo che ha fai vedere il tuo scazzo alessandro? guarda il tuo scazzo guarda l'obiettivo questa è alessandro, sta finta sta lavando si usa quella per raspare via è buono che? come hai fatto? fino alla faccia bassa per non farvi riprendere guarda che fai dai guarda io finisco io dai come fai questa qua? con l'acqua? è la mia no no, me la tengo tra poco a mano è un po' di pubblicità scherzi eh? tu qua fai andare a girare su youtube bravo eh 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 eh